Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando dell'assalto, l'ultimo alle aziende orafe argentiere. Lo ricorderete era accaduto ad Anghiari un maxi colpo. I carabinieri hanno ritrovato i due veicoli utilizzati dai malviventi. E' stata ritrovata a Selci di San Giustino Umbro l'auto utilizzata per la fuga della banda che nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana ha compiuto l'assalto alla Nicol Preziosi di Anghiari. Un colpo studiato nei minimi dettagli con tanto di tir rubato a città di Castello ed alberi abbattuti per bloccare la strada, fruttato ai ladri un bottino da qualche centinaio di migliaia di euro in argento da lavorazione. Ma non solo, i carabinieri accanto all'auto, una Nissan X-Trail, hanno trovato anche un furgone, utilizzato sempre dalla stessa banda, all'interno del quale c'era ancora una parte del bottino, circa un chilo di lega argentorame. Entrambi i mezzi rubati erano stati abbandonati vicino allo svincolo della E45, a notarli i residenti della zona, insospettiti dai veicoli fermi nella stessa posizione ormai da giorni. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Gli inquirenti poi hanno anche visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza di un'azienda che si trova in quell'area e che adesso potrebbero rivelare elementi importanti per l'individuazione dei ladri. Incidente sul lavoro. Nel comune di Cortona è rimasto ferito un uomo di 43 anni mentre svolgeva la sua attività lungo la provinciale di Manzano. Secondo le prime informazioni l'uomo si sarebbe ferito utilizzando una mola e si è appunto procurato delle gravi ferite ad una gamba e alla carotide avrebbe perso molto sangue. Sul posto si è portata un'ambulanza della misericordia di Cortona che ha trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso della fratta. Qui è stato stabilizzato e poi trasportato a bordo del Pegaso alle scotte di Siena al momento. È ricoverato in prognosi riservata sul posto una pattuglia dei carabinieri di Terontola e il personale del PISL dell'ASL Toscana Sud-Est. Gli uomini della Guardia di Finanza nella sede di Sei Toscana per le indagini condotte dal comando provinciale di Reggio Emilia che hanno portato a due avvisi di garanzia per altrettanti manager dell'azienda e la stessa Sei Toscana a darne notizia. In una nota la società e le persone si legge coinvolte nella convenzione di aver sempre agito nel rispetto delle leggi. Si sono immediatamente messi a disposizione degli organi investigativi e attendono con serenità la conclusione delle indagini riponendo la massima fiducia nella magistratura. Sei Toscana ribadisce che la vicenda non interferisce sull'ordinaria attività dell'azienda e quindi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini. Servizi che come sappiamo riguardano i rifiuti e proprio di rifiuti si parla nel prossimo servizio ma questa volta è davvero un esempio di grande inciviltà. Un corso d'acqua preso letteralmente come una pattumiera. La denuncia è del Consorzio Bonifica Alto Valdarno. Una lavatrice che galleggia nell'acqua cumuli di arredi accatassati sulle spoglie. A Castiglion Fiorentino l'allacciante S. Mucchia all'altezza di Botte Bonini si è trasformato così in una discarica di materiali ingombranti. A denunciare l'accaduto è Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica Due Alto Valdarno. Le fotografie scattate poco prima dell'intervento delle autorità competenti non hanno bisogno di commenti. È l'esito di un comportamento incivile che non solo danneggia l'ambiente e sfregge il paesaggio ma che rappresenta un grave rischio per la sicurezza idraulica dell'aria. Ogni giorno prosegue Stefani, lavoriamo per migliorare la sicurezza e l'immagine dei corsi d'acqua. Questo ha contribuito a migliorare il rapporto dei cittadini con il fiume e l'ambiente che lo circonda. Purtroppo però basta il comportamento scorretto di pochi per compromettere i risultati raggiunti. Il Consorzio è fortemente impegnato nelle campagne di comunicazione per combattere il fenomeno dei fiumi Pattumiera ma anche nell'attività di vigilanza per contrastare comportamenti incivili e pericolosi, ha poi aggiunto il direttore generale Francesco Lisi. Sul posto si sono portati anche gli uomini dell'arma dei carabinieri per dare avvio alle indagini e cercare di avere elementi utili per risalire a chi ha compiuto lo scempio. Viaggiava con 82 miniature in ebano e avorio nella borsa. Sono scattati così sequestro e multa per una donna residente in provincia di Arezzo. A scoprirla sono stati i finanzieri durante un'attività di controllo all'interno del terminal passeggeri del porto di La Spezia. Secondo quanto si apprende, la signora aveva giustificato il trasporto di questi oggetti con ragioni personali perché prossima ad un trasferimento in tutto 82 trascacchiere, complete riproduzioni di animali, miniature, maschere e decorazioni finissime, tutti realizzati in ebano e avorio, materiali provenienti da specie protette, quale l'elefantino africano. La perizia effettuata poi da un esperto ha confermato che tutti i manufatti erano prodotti in avorio di particolare pregio, data anche l'accuratezza degli oggetti. I beni sono stati sequestrati e per la donna è scattata una multa di 5.000 euro. Una scossa di terremoto in Toscana avvertita anche in alcune zone dell'Arettino, principalmente in Val D'Arno. Per fortuna non si segnalano danni a persone occose. Il sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato ieri alle 19.49 con epicentro nel comune di Poggi Bonzi, dunque nel Senese. Il 25 di aprile, come sappiamo, sarà una giornata da ricordare per il territorio aretino. Tornerà, perché insomma c'era già stato, in questo caso a Camaldoli, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà a Civitella in Valdichiana in onore delle vittime della strage nazifascista del giugno del 1944. E allora con il prefetto di Arezzo abbiamo cercato di capire che giornata sarà, sia sotto il profilo proprio della gioia di accogliere il presidente Mattarella, ma anche della sicurezza. Grande attenzione nell'Arettino per l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà a Civitella il 25 di aprile in occasione degli 80 anni dalle stragi nazifasciste. Da una parte la gioia di accogliere il capo dello Stato, dall'altra una grandissima attenzione per quello che sta accadendo a livello internazionale. Sì, sicuramente per il territorio è una grandissima opportunità e un grande onore avere il presidente della Repubblica, naturalmente in un contesto che conosciamo tutti particolarmente delicato a livello mondiale. Quindi è proprio di questi giorni l'attacco che abbiamo visto dei droni iraniani ad Israele. È chiaro che il livello di attenzione è massimo. Su questo abbiamo fatto già dei comitati per l'ordine della sicurezza pubblica, altri ce ne saranno nei prossimi giorni. Quindi al di là di quelle che sono le misure di attenzione già particolarmente elevati in ragione del contesto geopolitico, ci saranno chiaramente delle misure dedicate alla visita del presidente. Possiamo dire che Civitella sarà davvero un paese blindato. Che cosa si devono aspettare i cittadini nelle ore anche precedenti a questa visita? Sì, naturalmente il protocollo di sicurezza richiede che il paese sia effettivamente blindato, per cui ci sarà un'interdizione al traffico da un certo momento in poi, quindi dalle prime ore della mattina fino alla conclusione della visita del presidente. Naturalmente nei giorni precedenti e nei giorni dell'evento saranno effettuati tutti i controlli richiesti dal protocollo di visita del presidente, quindi che saranno controlli di bonifica, controlli del territorio, tutto per rendere la visita come deve essere un momento di gioia e senza alcuna preoccupazione. Tutto si svolgerà in piazza Alcide Lazzeri, intitolata al parroco che il 29 giugno 1944, giorno dell'eccidio di Civitella, offrì la sua vita in cambio di quella dei suoi parrocchiani, ma non fu ascoltato. Fu lui la prima vittima delle 244 uccise dai soldati della divisione Hermann Göring fra Civitella, Cornia e San Pancrazio di Bucine. Ha espresso una particolarità il presidente, appunto, di conoscere storie particolari. Ci sono ancora dei superstiti di questa strage? Si incontrerà i superstiti e soprattutto il desiderio del presidente è quello di incontrare i ragazzi, i bambini, quindi sarà una visita proprio all'insegna della conoscenza dei nostri ragazzi che saranno presenti in diversi momenti e parteciperanno al coro, quindi si faranno apprezzare per le loro doti canore e musicali, ma saranno anche presenti all'interno della trenzostruttura, quindi tra il pubblico. Giornata di incidenti, quella di oggi, nel territorio aretino, che hanno visto intervenire su più fronti i vigili del fuoco. Il primo intervento poco dopo le 7, lungo la E78, in località Palazzo del Piero, appunto, per un incidente. Il secondo, invece, per aiutare un animale selvatico, un capriolo, rimasto incastrato tra le barre metalliche di una ringhiera di un'abitazione nella zona di Via Romana ad Arezzo. Un altro soccorso in strada, in contemporaneo, peraltro, in autosole, in direzione nord, tra i caselli di Monte San Zavino e Arezzo, un'auto che si è ribaltata, è rimasto ferito un 31enne. E ancora un altro incidente, sempre con l'intervento dei vigili del fuoco aretini e di San Sepolcro, in questo caso, che ha coinvolto un'auto e una moto lungo la strada regionale 71. Torniamo a parlare di quanto è accaduto nei giardini del Porcinai ad Arezzo. Un altro fatto di sangue, dopo quello che, lo ricorderete, insomma, aveva creato davvero molto sconcerto in città. E allora sale la preoccupazione proprio per l'escalation di episodi di cronaca. Oggi c'è l'intervento delle due associazioni di categoria dei commercianti, Confesercenti e Confcommercio, per bocca dei due direttori, Valeria Alvisi e Catiuscia Fei. Abbiamo raccolto, dicono, le segnalazioni dei commercianti nella zona dei giardini del Porcinai, dove da tempo c'è una diffusa percezione di insicurezza e scarso decoro. Il timore è anche per la clientela, dicono, non vogliamo che i ripetuti episodi possano contribuire ad allontanare i cittadini appunto dal frequentare questa zona. Le due associazioni di categoria hanno quindi scritto una lettera al prefetto e al sindaco, Alessandro Ghinelli, per chiedere che sia maggiormente intensificata la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e venga potenziata, anche se provvisoriamente l'illuminazione pubblica, siamo tutti consapevoli, dicono che i tempi di riqualificazione dell'area non saranno brevi. Torniamo sul caso dei pendolari. Gli ultimi mesi sono stati davvero molto difficili. Sul tratto Arezzo-Firenze, tante cancellazioni e ritardi. Ieri c'è stato il vertice in Regione Toscana, con RFI Trenitalia, i sindaci del Valdarno e il Comitato Pendolari del Valdarno, che si dice deluso. Delusione dei pendolari del Valdarno per il vertice in Regione con RFI e Trenitalia. Sono palliativi le opzioni tecniche proposte da RFI, afferma il portavoce del Comitato dei Pendolari Valdarno direttissima, Maurizio D'Are, che riguardano in modo discutibile modifiche agli orari ai tragitti dei treni dei pendolari, senza considerare anche le modifiche ai treni dell'alta velocità e soprattutto la questione della precedenza ai treni regionali, prevista da una norma di RFI nazionale, concetto ribadito ai nostri microfoni qualche giorno fa. Siccome da una normativa nazionale di RFI è previsto che quando ci sono linee sature, come sarebbe di fatto la linea direttissima, nelle orari di punta, dalle 6 alle 9, dalle 17 alle 20, chi deve avere la precedenza tra un treno regionale e un treno in alta velocità è il treno regionale a avere la precedenza, invece di fare i linchini sarebbero a questo punto i treni regionali a prevalere tra virgolette su treni in alta velocità, il che sarebbe anche quasi clamoroso, però se questa normativa di RFI prevede questo, che venga finalmente applicata. Per il treno Foligno 40-70 fra i più critici della mattina viene proposto uno slittamento definito assurdo dai pendolari di 15 minuti nell'arrivo a Santa Maria Novella. Per il Foligno 40-85 delle 18 e 14, fra i più usati per il rientro, viene proposto invece un posticipo di 4 minuti alla partenza da Firenze. Ufficializzando così, affermano i pendolari, un ritardo che oggi è già nei fatti. Per il treno Chiusi 41-09 delle 17 e 14, anch'esso molto usato per il ritorno, viene proposto in alternanza con un treno precedente, il Chiusi 41-19, sia per il percorso indirettissima che per la modifica dell'orario di partenza, con il rischio di sovrapposizioni. Le proposte tecniche di RFI, conclude Dare, saranno sottoposte a un sondaggio dei pendolari del Valdarno, ma è auspicabile che al prossimo incontro, proposto dall'assessore Baccelli, ci siano nuove indicazioni tecniche di RFI riguardante i treni AV e migliori per i pendolari. E sulla riunione interviene anche il movimento consumatori Arezzo. La Regione Toscana scrive in un comunicato, non ha capito che ha il potere e dovere di impedire che venga meno il diritto alla mobilità, adottando soluzioni tempestive. Quest'ultimo facilita l'esercizio, in alcun caso garantisce di un ulteriore diritto, quello al lavoro. In una società globalizzata, è impensabile, dice il movimento consumatori, che i lavoratori debbano partire ben tre ore prima per sperare di arrivare in tempo con gli studenti, così gli studenti, scusate, e appunto i pendolari tutti. Parliamo adesso invece di colonie feline. Oggi una importante donazione appunto di cibo, sarà possibile ritirarla fino a domenica prossima. 40.000 pasti di cibo secco ed umido per le colonie feline di Arezzo. Si tratta dell'ottava donazione del Comune alle custodi che potranno ritirare al canile comunale fino a domenica 21 aprile una quantità proporzionale al numero totale dei mici ospitati. È un'altra grossa donazione che arriva dal Comune di Arezzo a favore delle colonie feline e devo dire che anche questa volta la sensibilità dell'assessore Carlettini ha accolto e recepito le richieste numerose. Queste colonie sono in continuo aumento. Le necessità sono tante. Ora vedrete che l'acquisto è stato veramente importante, però chiaramente diluito in tante colonie. Sono circa 210 le colonie feline censite nel territorio comunale di Arezzo. Va fatto, ricordo, il censimento presso l'ufficio ambiente del Comune di Arezzo, la dottoressa Merli che se ne occupa. E poi da lì parte tutta la procedura del censimento e anche della necessità appunto di sterilizzazione che avviene da due anni. Anche questo è una nuova, diciamo, è la novità che sta funzionando benissimo della stanza degenza. Cioè i gattini vengono accolti in questa stanza degenza due giorni prima, portati da noi alla Asle a operare, rimessi per i posti operatori e poi restituiti in colonia. Ovviamente anche questo è un passo in avanti che abbiamo avuto proprio con l'assessorato alla protezione, al benessere degli animali e quindi, insomma, sono importanti innovazioni che portano a un meccanismo sicuramente a vantaggio della città. Sperimentiamo la preistoria. Questo è il titolo di un laboratorio didattico dedicato a bambini e ragazzi che si svolgerà domenica 21 aprile alla Casa Museo Ivan Bruschi curato dal professor Lucio Milani che partendo dai reperti custoditi nella collezione Bruschi farà sperimentare ai partecipanti le tecniche utilizzate dall'uomo di Neandertal per accendere il fuoco, cacciare e disegnare. Per i genitori che accompagneranno i bimbi sarà riservata la possibilità di visitare ad un prezzo ridotto il nuovo allestimento da Pontormo a Fattori, le stanze dell'arte e la libera maniera arte astratta e informale nelle condizioni intesa San Paolo. Potete informarvi o prenotarvi ovviamente presso i canali della Casa Museo di Ivan Bruschi. Infine parliamo della trasferta di Perugia c'è ovviamente grande attesa da parte dei tifosi a Maranto per conoscere quali saranno proprio le disposizioni per potervi partecipare. È prevista per il prossimo 21 di aprile. Intanto i documenti di Ciorgoglio a Maranto inviati agli organi preposti e ridatti dall'Avvocato Giulio Ciabattini e alcune sollecitazioni ulteriori non hanno ancora trovato risposta. Nel frattempo l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato le sue indicazioni suggerendo l'adozione della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della tessera del tifoso. Le indicazioni definitive comunque verranno messe a verbale dal GOS che si riunirà presso la prefettura di Perugia il prossimo 18 di aprile. Dunque a soli tre giorni dalla partita. Soltanto dopo potranno essere messi in vendita i tagliandi appunto per il settore ospiti del Renato Curi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e buonasera.